Dopo il protocollo sulla riabilitazione oggi arriva anche quello sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali siglato tra l'INAID e la Regione Abruzzo. I due enti si sono impegnati a potenziare i propri sistemi informativi, a garantire la fruibilità delle rispettive banche e a sviluppare progetti formativi e di aggiornamento specifici, finalizzati a sostenere la diffusione della cultura della sicurezza sia nel contesto scolastico che nelle imprese. Il protocollo della durata di tre anni nasce nell'ambito dell'accordo di collaborazione 2015-2020 tra Ministero della Salute, INE e le conferenze delle regioni e delle province autonome. L'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci. Si interviene su un settore sempre molto meno notiziabile rispetto agli altri, cioè la prevenzione, che invece incide molto con la vita delle persone, con la qualità della salute delle persone, nel caso di specie con la qualità della vita anche delle persone che lavorano. Si tratta di intervenire preventivamente su eventuali infortuni, ma soprattutto intervenire su una serie di patologie che grazie alle informazioni che ci mettono a disposizione dall'INAID le possono essere conosciute in anticipo e dunque si può intervenire in anticipo con una buona attività di prevenzione. È uno degli aspetti del piano regionale della prevenzione che recepisce quello nazionale ed è il secondo protocollo che sottoscriviamo con l'INAID, perché il primo era valere sugli aspetti riabilitativi, cioè in realtà ex post rispetto a certi eventi. Noi in questo modo cerchiamo di completare l'anello della prestazione sanitaria perché conosciamo per prevenire e allo stesso tempo riabilitiamo quando l'evento c'è. Grazie 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 Grazie